Nel calcio basta poco, si passa facilmente dall'entusiasmo sfrenato alla depressione più totale. Date un'occhiata agli articoli sul Cosenza degli ultimi giorni e pensate cosa si sarebbe scritto invece se Meroni ad esempio fosse scivolato nella mischia finale che valsa poi la salvezza. Dalla depressione all'entusiasmo passando dalla frenesia, quest'ultima tipica del calcio mercato che in questo periodo si prende la scena. A breve toccherà i calciatori e si passerà dall'entusiasmo per l'arrivo di un fantasista alla depressione per un giocatore considerato uno scarto, salvo poi essere smentiti dal campo. Ora però è tempo per chi ancora non ce l'ha di pensare all'allenatore. Cambiano le figure ma gli stati d'animo sembrano essere gli stessi. In casa Cosenza nelle ultime ore sono stati tanti i nomi circolati più o meno veritieri, alcuni capaci di scatenare l'entusiasmo, altri meno. L'impressione però è che al contrario rispetto a quanto è accaduto in passato, ad essere entusiasti della piazza cosentina siano anche i tecnici effettivamente contattati. Sarà Caserta l'eletto? Sarà la sorpresa Javorcic? Ancora qualche ora di attesa ma certamente non si dovrebbe andare oltre i primi giorni della prossima settimana. Meglio però ponderare e scegliere nella maniera giusta senza andare troppo oltre perché c'è da allestire una squadra e c'è da programmare un ritiro. A proposito, quale sarà la casa estiva dei lupi? I lupi per definizione stanno in Sila e allora c'è chi auspica un ritorno a casa. Dopo la meravigliosa salvezza auspicando un campionato di vertice sarei orgogliosa da sindaco di San Giovanni in Fiore e da presidente della provincia di Cosenza di ospitare il ritiro precampionato del Cosenza Calcio nella meravigliosa Sila. Questo consentirebbe non solo ai tanti tifosi di seguire la squadra ma anche ai tanti turisti di trovare un'attrazione in più. Grazie.